In occasione del centenario della nascita di Maria Callas, l'Opera Nazionale Greca ha in programma una serie di eventi in onore della più grande soprano del XX secolo. Il contributo della Divina all'arte operistica del Novecento è immenso e universalmente riconosciuto. La serie di omaggi si terrà da aprile a dicembre e includerà una varietà di eventi, tra cui una nuova produzione operistica, una mostra alla Biblioteca Nazionale e un documentario sui primi anni greci di Callas. L'Opera Nazionale L'Opera Nazionale L'Opera Nazionale L'Evento principale è la Medea di Cherubini, prima grande coproduzione dell'Opera Nazionale Greca e di tre importanti teatri dell'Opera statunitensi. L'Opera Nazionale